Un marchio storico, un pezzo importante dell'industria motociclistica italiana, è la Laverda di Breganze, che oggi rivive grazie al Museo Laverda inaugurato proprio in questi giorni. Oltre 100 moto, tra cui prototipi e modelli da gara, per ricordare la grandezza della casa motociclistica fondata a Breganze nel 1949, poi negli anni 2000 passata prima al Gruppo Aprilia e successivamente alla Piaggio, fino alla chiusura definitiva nel 2006. Un motore che emoziona tutti gli appassionati. Sono arrivati in tanti per l'apertura di questo straordinario scrigno di potenza e storia, che oltre alle moto permette di ammirare tute e caschi, livree, strumenti di lavoro della fabbrica e ancora fotografie, insegne e cartelli pubblicitari. Il nuovo museo è stato creato da Werner Ricciolini, imprenditore, grande appassionato del marchio. L'abbiamo concretizzato, l'abbiamo visto insieme e poi l'abbiamo messo in pratica insieme con le mani. Ricciolini, affiancato dalla moglie Irina, ha rilevato tutta la collezione olandese dello scomparso Cordes. Ha aggiunto molti pezzi di sua proprietà, ha trovato la sede e ha ottenuto la collaborazione dell'amministrazione comunale.